Qual è la sua idea in merito alla dieta vegana e se possiamo fare un confronto con la dieta mediterranea sia a livello sportivo sia a livello di salute? Sì, allora diciamo che una dieta vegana, una dieta vegetariana può non avere carenze se però ben strutturata, questo è uno dei problemi principali in chi inizia una dieta vegana o una filosofia comunque vegetariana, il problema è l'improvvisazione con l'improvvisazione seguire questo modello alimentare può portare sicuramente a delle carenze dall'altra parte ormai la dieta mediterranea è conosciuta anche a livello internazionale pensiamo che è diventata anche patrimonio dell'UNESCO dal 2010 sappiamo che la dieta mediterranea riduce sicuramente il rischio di molte malattie a livello cardiovascolare ha un impatto su una riduzione anche del rischio di tumori quindi una dieta mediterranea che non è una dieta vegana ha sicuramente degli impatti positivi e permette di ridurre al minimo il rischio di carenze A proposito di carenze, dottoressa, da quali alimenti il vegano prende le proteine o comunque sia tutto ciò che la persona che segue la dieta mediterranea prende dal latte, dalle uova, dagli alimenti che un vegano non mangia? Tutti gli alimenti contengono proteine quindi tutti gli alimenti contengono amminoacidi che sono i mattoncini che poi servono per fare le proteine e contengono tutti gli amminoacidi che sono 20 anche se alcuni amminoacidi possono essere meno rappresentati e vengono chiamati appunto amminoacido limitante però mettendo insieme una dieta, un'alimentazione ricca di cereali e legumi ad esempio che hanno amminoacidi complementari da certo punto di vista si forma una proteina completa diciamo che ha un valore biologico, un valore proteico elevato addirittura superiore a quello della carne in alcuni casi quindi non c'è assolutamente problema dal punto di vista dell'apporto proteico